Ciao a tutti, io sono Marco e oggi parleremo di Native Advertising. In particolare vediamo che cos'è il Native Advertising e come lo viene gestito a livello operativo e strategico in Acrosso. Ma partiamo da che cos'è. Il Native Advertising ha una definizione che ci viene fornita da Yab nel 2013 e la leggiamo insieme. Il Native Advertising fa riferimento ad annunci a pagamento coerenti con il contenuto della pagina, con il design e il comportamento della piattaforma in cui sono ospitati, in modo che l'utente li percepisca semplicemente come parte di esso. Il grande punto di forza infatti del Native Advertising è che inverte la fruzione della pubblicità da parte dell'utente, che non viene interrotto nella sua navigazione come ad esempio avviene in un pop-up, ma cattura il suo interesse in modo quasi organico e quindi possiede un design e un posizionamento molto particolari, molto ben definiti e non intrusivi. Di conseguenza per noi è molto importante creare un contenuto che sia rilevante per l'utente e che catturi il suo interesse e di conseguenza il suo click. Ma com'è il funnel nel Native Advertising? Innanzitutto, per chi non lo sapesse, il funnel è il percorso che noi decidiamo di far fare all'utente dal primo approccio fino alla vendita. Si immagina solitamente come un imbuto. Il nostro intervento per quanto riguarda il canale del Native Advertising è nelle prime fasi di questo funnel, ossia nella lead generation, quindi nell'approccio con l'utente tramite l'annuncio e la conversione in landing page, come potete vedere in queste due preview. Questa è una campagna del vertical immobiliare che abbiamo gestito sul territorio italiano e vediamo come è fatto un annuncio Native, con un'immagine in alto a destra, con un'immagine, un titolo e il brand name e a sinistra la landing page, in questo caso una landing page con un form multi-step. Quello che vediamo è esattamente come funziona il funnel. L'utente ritrova l'annuncio, per esempio, a fondo di un articolo e il click porta alla landing page, il luogo della conversione. Una volta che l'utente si trasforma in lead, il suo lead viene inviato al nostro cliente che prosegue negli altri step del funnel su cui noi non influiamo in modo diretto ma di cui siamo molto interessati a sapere la qualità nei vari step per poter ottimizzare anche la nostra campagna. Ma passiamo alle criticità ai vantaggi di questo canale che come tutti possiede dei lati positivi e delle criticità a cui stare attenti. Beh, innanzitutto per quello che abbiamo detto il Native crea un grosso engagement presso gli utenti, non essendo anche intrusivo ed essendo in posizionamenti premium all'interno delle testate giornalistiche ad esempio massime del territorio nazionale e che quindi si presta molto bene a contenuti che hanno l'obiettivo di brand awareness. Ma non solo. Per esempio noi utilizziamo il canale soprattutto per raggiungere degli obiettivi di performance che possono essere appunto la conversione, la vendita, il lead, la presa appuntamento per il nostro cliente eccetera. Una cosa in più di questo canale che è molto molto positiva è la Reach. Consideriamo che ha un potenziale di traffico praticamente illimitato il Native e è molto molto importante capire che non è solo, io dico sempre, immaginiamo un formato nativo a fondo di un articolo di giornale perché è il contenuto con cui noi entriamo tutti più a contatto ma dobbiamo considerare che in realtà gli annunci nativi sono presenti ovunque nell'open web e quindi possiamo raggiungere veramente un traffico illimitato. Per tutti questi vantaggi il Native si presta molto molto bene a quei clienti che hanno un grande brand da sponsorizzare quindi che fanno campagne di brand awareness o campagne su cui noi abbiamo uno storico positivo quindi da mettere subito al servizio della nuova campagna per raggiungere obiettivi nel meno tempo possibile. Magari con clienti molto collaborativi che durante la campagna ci forniscono dei feedback che ci permettano di ottimizzare non solo i costi ma anche la qualità dei lead che otteniamo e si presta molto bene a quei prodotti complessi, magari anche costosi, perché riusciamo ad avere una qualità del lead abbastanza alta da riuscire a raggiungere quei KPI un po' più complessi come la presa appuntamento o la vendita. Quelle che sono invece le criticità di questo canale sono sicuramente il timing, la fase di testing molto molto articolata e il budget prevalentemente medio-alti. Fase di testing perché per raggiungere diciamo gli obiettivi performance, abbiamo bisogno di fare molti test creativi e quindi il lavoro diventa un po' più complesso quando abbiamo una rigidità creativa da parte del cliente. Di sicuro abbiamo bisogno di molto tempo per ottimizzare la campagna, non c'è un tempo ben definito, potrebbe essere una settimana, tre per raggiungere i primi risultati e riuscire a fare un lavoro di ottimizzazione che ci permetta poi di scalare nel medio periodo e per tutti questi motivi le campagne con geolocalizzazioni molto molto ristrette aumentano molto il costo come vedremo tra poco e quindi sono un po' più complesse da gestire da parte nostra su Netiva Advertising. Ma arriviamo al ruolo dell'annuncio, come l'annuncio quindi la prima parte del funnel può influire anche sulla qualità del lead. Innanzitutto c'è da dire che noi facciamo infiniti test all'inizio di una campagna per capire qual è la combinazione tra titolo e immagine più performante per la campagna. Ne facciamo veramente tanti ed è per questo che è richiesto sempre un periodo di tempo più o meno adeguato all'inizio della campagna, al momento dello start. Ma una volta trovato l'annuncio più performante per noi è fondamentale il monitoraggio e l'ottimizzazione costante perché ogni annuncio presenta un ciclo di vita. Immaginate uno stesso annuncio che appare continuamente per mesi al fondo di un articolo, dagli utenti non verrà visto sempre lo stesso modo, inizierà a essere ripetitivo e per questo ha un ciclo di vita. Quindi anche se abbiamo trovato la formula magica all'inizio della campagna dobbiamo sempre essere lì a monitorare e ad avere delle soluzioni alternative da sfoderare nel momento opportuno. A livello un po' più strategico invece quello che non vogliamo, quindi quello che vogliamo evitare è il clickbait. Che cos'è il clickbait? È la creazione di un annuncio che ottenga click a tutti i costi, quindi a prescindere dal contenuto che poi l'utente ritroverà sulla landing page. Quindi per noi è molto molto importante trovare una combinazione di titoli e immagini per gli annunci che abbia un CTR, quindi un numero di click su impression, tutto sommato accettabili, che però riesca poi a portare degli utenti in landing page che convertano. Nel caso del clickbait invece abbiamo annunci veramente con tantissimi tantissimi click, ma poi nessuna conversione perché l'utente non ritrova la promessa dell'annuncio all'interno della landing page. Quindi trovare questo equilibrio per noi è veramente fondamentale. Altrettanto fondamentale però è capire come un annuncio possa influire sulla qualità del lead. Immaginate che in una linea di annunci noi possiamo avere anche 10 annunci tutti diversi che portano ad una stessa landing page. Le lead che arrivano da un annuncio possono non essere della stessa qualità delle lead che arrivano da un altro annuncio. Quindi per noi è veramente fondamentale quando ci interfacciamo con dei clienti che ci danno dei feedback puntuali che riescono a farci risalire per ogni lead all'annuncio di partenza e per noi è fondamentale perché capiamo anche i messaggi che poi fanno alzare la qualità dopo la conversione sulla landing page. Quindi anche solo l'annuncio a parità di landing page influisce non solo sul conversion rate ma anche sulla qualità del lead rilevata dal cliente. Adesso vediamo in accross come viene gestito il flusso per quanto riguarda il canale del native advertising. Diciamo che il flusso è molto semplice ma coinvolge più persone e crea delle sinergie veramente importanti. Naturalmente diciamo che quando dobbiamo iniziare con una campagna di native advertising il primo passo è sicuramente quello del commerciale. Quindi il commerciale prima di chiudere un deal col cliente solitamente fa un confronto con il team native per capire quali sono le prospettive le potenzialità e magari per ottenere dei dettagli legati al budget e al payout che possano diciamo essere vantaggiose per il cliente ma sostenibili per noi. Una volta chiuso il deal facciamo solitamente se c'è da creare del materiale come una landing page un brief con il team creativo per andare a capire quali sono magari gli elementi più performanti dell'ultimo periodo da andare magari a inserire nelle landing page. Dopo la realizzazione quindi della landing page, dei materiali creativi e il setup tecnico quindi abbiamo già tre team con cui si crea questa sinergia. Andiamo sulla gestione operativa quindi carichiamo la campagna sulle piattaforme native, creazione di titoli, annunci e iniziamo lo starter. Quindi con lo start accumuliamo un po' di storico, vediamo se la campagna performa e accumuliamo uno storico sufficientemente grande per capire se ci sono delle prospettive future con l'ottimizzazione. L'ottimizzazione è fondamentale perché ci garantisce una riduzione dei costi e un aumento della qualità per il cliente. Perché c'è una freccia circolare che dalla gestione operativa torna al brief commerciale o al brief creativo? Perché è fondamentale un continuo scambio di informazioni tra il team native, quindi operativo, e il team commerciale, creativo e tecnico. Perché durante la campagna ci potrebbe essere sempre bisogno o di ottenere un feedback da parte del cliente e che quindi è compito del commerciale mediare o un ritocco del deal, se vediamo che magari i costi di conversione non sono coerenti con quella che era l'offerta che abbiamo fatto al nostro cliente o magari per il raggiungimento di determinati obiettivi di performance è richiesto magari un aggiustamento creativo in landing page e quindi il ritorno al brief creativo è frequente e molto performante soprattutto per le campagne in house. Andiamo a vedere invece a livello operativo che cosa noi facciamo, che cosa possiamo fare quando andiamo a creare una campagna sulle nostre piattaforme native. Innanzitutto c'è una parte di setup in cui noi andiamo a creare gli annunci, quindi ideare titoli, immagini e caricarli, creare un link tracciato, quindi tracciato a livello tecnico che ci permetta di tracciare non solo i clip ma anche le conversioni. Se vogliamo possiamo usare una programmazione degli annunci, ovvero ci sono magari dei clienti che non riescono a gestire magari i lead durante il weekend, noi possiamo escludere il weekend a priori dalla nostra campagna. Ovviamente impostare un geotarget abbiamo accesso a praticamente tutti i paesi del mondo ma possiamo andare anche nel dettaglio di regioni o cap. Ovviamente come vi dicevo prima più restringiamo il geotarget più i nostri costi aumentano e più il traffico si riduce veramente drasticamente. Quindi è preferibile una campagna su territori più bassi. Ovviamente scegliamo il device ma non solo, sistemi operativi, se collegamenti wifi o 3G immaginiamo a una campagna di download. Possiamo infine utilizzare delle blacklist, delle whitelist basate sul nostro storico, utilizzare delle audience precedentemente create o appunto di istituti statistici che ci mette al servizio la piattaforma nativa. Infine la parte di budgeting. Ovviamente possiamo impostare un budget giornaliero, mensile, totale e alla fine il setup del pixel perché ovviamente per ottimizzare le nostre campagne noi dobbiamo tracciare le conversioni anche sulle piattaforme native. Quindi è fondamentale che noi tracciamo tutto. Immaginate che quando avviene una conversione il nostro sistema di tracciamento invia alla piattaforma native questa conversione e viene assegnata esattamente alla campagna, all'annuncio e al sito che l'ha prodotta. Quindi per noi è fondamentale per andare poi a ottimizzare la campagna. Infatti l'ottimizzazione avviene by ads, by site e sulla creatività. By ads e by site è possibile come dicevo solo tracciando perfettamente la conversione, quindi grazie ai pixel di conversione. E quindi cosa possiamo andare a fare? Possiamo andare a replicare, a duplicare annunci che stanno performando bene o andare a spingere aumentando magari il cpc sui siti più performanti o diciamo chiudere i siti che hanno veramente tanto traffico, ci fanno spendere abbastanza budget ma senza convertire. Infine la parte creativa. Ovviamente non è un'ottimizzazione prettamente operativa ma come vi dicevo prima se vediamo che le conversioni in landing page non sono all'altezza possiamo tramite il team creativo andare a capire come poter modificare la landing page per aumentare il conversion rate oppure andare tramite i feedback del cliente a capire quali annunci producono più qualità e quali no. Adesso andiamo a vedere se ci sono domande. Martina ci chiede abbiamo mai testato formati di annunci video? Allora questa è una bella domanda perché è molto molto attuale. I formati nati non li abbiamo affrontati in questa presentazione sono veramente molteplici abbiamo parlato solo di quello statico ma esistono dei formati nativi che sono prettamente video. Quelli che sono prettamente video per il momento non abbiamo testati ma siamo diciamo su quest'anno magari vogliamo fare dei test però c'è da dire che alcune piattaforme nati stanno sviluppando nuove tecnologie e ci garantiscono la possibilità di utilizzare per esempio delle GIF o dei mini video al posto dell'immagine nell'annuncio quindi l'annuncio abbiamo visto prima formato a titolo e immagine si trasforma in titolo e GIF animata o mini video. Ed è veramente attuale questa domanda perché lo stiamo utilizzando molto nell'ultimo periodo e questo formato ovviamente alza il CTR quindi otterremo più click e lì sta il gioco nostro di riuscire ad ottenere più click ma a parità di qualità quindi evitare il clickbait con degli annunci in movimento ma che magari ci permettano di se riusciamo a mantenere la stessa qualità ci permettono di ottenere molte molte più lead derivanti proprio dall'aumento del traffico generato se non ci sono altre domande io vi ringrazio e alla prossima